Sarà una parità bella, assolutamente da giocare. Entrambe le squadre vengono da due momenti positivi, c'è tanto entusiasmo e il derby richiama sempre tanta gente, quindi c'è voglia di giocarlo e vediamo l'ora che arrivi venerdì sera. Affrontiamo una squadra forte, forte fisicamente, forte tecnicamente, forte mentalmente perché difficilmente vince il 94esimo in una giornata poco buona e hanno dimostrato di saper lottare. Il derby è sempre il derby e quindi c'erano dei stimoli altissimi per una partita bella. Non va da parte nostra caricato ulteriormente perché è una partita, vale tre punti, è una partita bella e importante, però non va caricata eccessivamente. Noi abbiamo lavorato bene, stiamo lavorando bene ed è quello che ci importava fare in settimana, lavorare bene e prepararci al meglio per venerdì sera. Non importa chi fa gol, però è normale, segnare sarebbe veramente bello, ma questo se ne parla, è un po' il parlet, però credo che l'importante sia fare la prestazione. Non possiamo prescindere dagli atteggiamenti giusti, non possiamo prescindere da una grande fama agonistica perché credo che il Modena sotto quell'aspetto lì non mancherà, ma sono convinto che non mancheremo noi. Sì, è una partita secondo me di altissima intensità e sperando che poi uno dei miei compagni faccia magari la differenza per portare la cassa a tre punti importanti. Grazie.